Una brutta sconfitta per il Pescara all'esordio, ne parlavamo anche con Zauri, anche col tuo compagno di squadra Memushai, c'è poco da dire su questo 3-1? Sicuramente c'è solo da abbassare la testa, lavorare e migliorare su tutti i punti di vista. Abbiamo disputato, secondo me, una brutta partita e dobbiamo prendere questa partita come spunto da cui poter migliorare e appunto migliorarsi e poi già dalla prossima partita impegnarsi al massimo per poter portare a casa la vittoria. Non eri al meglio della condizione, sei stato in dubbio fino alla vigilia e nelle azioni che hanno portato il gol della Saranetana sei stato involontariamente anche tu protagonista in negativo. Sì, sicuramente, ma questo non è sicuramente una scusa, dobbiamo migliorare tutti. e ovviamente la sfortuna ci è anche venuta incontro, ma non è questa una scusa da prendere. Noi dobbiamo migliorare per poi poter vincere tutte le partite, che è il nostro obiettivo. Difensore Bettella, chiedo cosa è accaduto in occasione del gol del 2-1 di Allov. Avete permesso al giocatore della Saranetana di fare quello che ha voluto? C'è stata la prima rispinta di Fiorillo e poi il gol del giocatore Campano, che oggi vi ha creato dei problemi obiettivamente. No, dopo la rispinta di Fiorillo è stato, diciamo, anche mezzo affortunato in un rimpallo che si è trovata tu per tu con Vincenzo e l'ha buttata dentro. Ovviamente sono tutti episodi da cui migliorare per poi trasformarli in meglio nelle prossime partite. Come ti sei trovato oggi con Campagnano al di là di questa partita, di questa sconfitta? No, giocare con Ugo è sempre bello, ti dà sicurezza, ti trasmette esperienza, quindi penso che per un giovane non ci sia cosa migliore per giocare da fianco a lui. Cosa vi ha detto per chiudere Davide, il tecnico Zauri, negli spogliatori al novantunesimo? No, ci ha detto di prendere spunto appunto da questa partita per migliorare, perché il nostro obiettivo è quello di fare molto altro rispetto a questa partita e portare il Pescara dove merita.